La mesoterapia o intradermoterapia distrettuale con Inerbidi prostolane è un trattamento di medicina estetica volto alla risoluzione di inestetismi come la cellulite e il rilassamento dei tessuti. Inerbidi prostolane è un gel trasparente iniettabile costituito da peptidi biomimetici di nuova generazione, il nanopeptide 32, il pentapeptide 43, il tripeptide 41 e l'octapeptide 11 e acido ialuronico. La particolarità di questa miscela sta nel fatto che una volta iniettata rende permeabile la membrana degli adipociti. Queste cellule si raggrinziscono e perdono volume per poi morire e venire eliminati dai macrofagi senza che vi siano rischi di necrosi in quanto le cellule perdono naturalmente la loro funzionalità. I trigliceridi fuoriusciti dagli adipociti vengono smaltiti per via linfatica in maniera molto fisiologica. La presenza di acido ialuronico al suo interno stimola la produzione di collagene e restituisce e purgora quei tessuti che progressivamente vanno incontro a riduzione. Il trattamento consiste in una serie di micropunture a distanza variabile l'una dall'altra di 1-5 cm fino a coprire tutta la zona da trattare. Solitamente trattiamo i glutei, la coscia, l'interno della gamba, il doppio mento, la adiposità sui fianchi, le braccia e l'addome. È possibile fare un ciclo di 4-5 sedute a cadenza quindicinale per poi passare gradualmente a un mantenimento mensile. I primi effetti sono visibili già dopo la prima settimana e comunque dopo 2-3 sedute diventano sempre più apprezzabili. Il massimo del risultato è poi a 4-5 mesi di mantenimento. Le iniezioni non sono dolorose, non lasciano segni se non qualche lieve arrossamento che sparisce dopo qualche ora. Le sedute possono essere praticate in qualsiasi periodo dell'ando, avendo cura di evitare le settimane più calde e evitare di praticare certi sport nei momenti immediatamente successivi al trattamento. La mesoterapia è reversibile, infatti le sostanze iniettate sono biodegradabili e vengono lentamente riassorbite.